buongiorno benvenuti nel mio canale parliamo ancora di windows 11 che sarà prossimamente rilasciato dalla microsoft abbiamo già visto in un primo video in un primo post quali siano i requisiti minimi per poter installare windows 11 che sarà aggiornato automaticamente a chi possiede un windows 10 se il suo computer soddisfa questi requisiti i requisiti sono del processore un gigahertz con due core ea 64 bit la ram di almeno 4 gigabyte l'archiviazione di almeno 64 gigabyte la scheda video direct x lo schermo maggiore o uguale a 9 pollici la connessione internet dunque abbiamo visto che la microsoft ha anche aveva anche rilasciato un'applicazione per verificare questi requisiti questa applicazione era presente in questa pagina della microsoft che però quando si cerca di scaricarla visto che aveva dato dei risultati non proprio buoni c'è scritto che sarà disponibile a breve cioè per adesso non si può più scaricare questa applicazione per verificare i requisiti di compatibilità perché probabilmente non funziona sono accorti che non funziona quel che dava da risultati sbagliati allora è stata rilasciata una applicazione su github che invece permetteva di verificare che questi requisiti se fossero effettivamente soddisfatti e questa applicazione si poteva scaricare da github da questa pagina però anche questa applicazione aveva dei limiti perché chiaramente non poteva tenere conto di su di tutti i processori che via via microsoft e includeva tra quelli che supportavano windows 11 a questo punto è uscita una nuova applicazione stavolta non è open source comunque comunque gratuita di a shampoo che un azienda che abbiamo conosciuto diverse volte per programmi della masterizzazione anche per altre cose questa sciampo rilasciato appunto un'applicazione che non solo permette di verificare se un computer soddisfa i requisiti per windows 11 ma che è costantemente aggiornata e verranno aggiunti per esempio i cpu le chips i processori che via via verranno verranno resti compatibili con windows 11 vediamo come funziona funziona chiaramente maniera semplice si va su download e si scarica l'applicazione ecco fatto a questo punto ci si clicca sopra all'applicazione della firla si va su sì si sceglie english o tedesco chiaramente meglio english per me almeno si va su ok si va su agree and proceed si sceglie la cartella di destinazione lasciamo questa qui di default oppure si procede alcun'altra si va su next si lascia la spunta a per lanciare direttamente a shampoo windows 11 il controllo di compatibilità cioè su fine ed ecco qui che adesso si potranno verificare i requisiti del computer come vedete qua sulla sinistra ci sono tutti i requisiti minimi qui sulla destra ci sarà il risultato bisogna andare però sul check now per verificare e si attende che venga analizzato il computer dunque nel caso in cui ci fossero delle spunte verdi è tutto ok se ci fosse delle spunte rosse verrà anche mostrato come risolvere questo 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 problema effettivamente come vedete questi casi sono tutti verdi le spunte quindi questo computer è compatibile però può capitare per esempio che magari la cpu sia non sia ancora presente tra quelle supportate questa qui è supportata è un intel i7 sembra magari fosse un i5 potrà sì che ancora non fosse non sia supportata ma che lo sarà in futuro quindi diciamo che questa applicazione verrà aggiornata di continuo e quindi ci potrà dare dei risultati diciamo così più attendibili rispetto a quelle che avevamo fino adesso questo normalmente nell'attesa che anche windows si decida a rendere disponibile questa applicazione per verificare la compatibilità con windows 11 direttamente con una sua applicazione non usando applicazioni di terza e far e questo è tutto alla prossima volta quindi